Le note degli studenti del liceo musicale Petrarca hanno risuonato nella sala vasariana in piazza del Praticino. E' infatti tornato il concerto di Natale dello storico istituto cittadino. Credo che sia stato il miglior modo per augurare a tutti, genitori, ragazzi, insegnanti, che stasera erano anche tanti, un buon Natale sereno, veramente che sia un momento di serenità per tutti e di felicità. Dopo l'esecuzione dei solisti quella dell'orchestra sinfonica del liceo diretta dal professor Alessio Tiezzi e del coro del liceo. Concludiamo con un brano natalizio dove uniamo sia l'orchestra grande, archi e fiati e percussioni tutti insieme e anche il coro. E quindi sarà uno star carol di John Rutter, un carol americano molto coinvolgente con cui daremo gli auguri di Natale. Prima faremo invece dei brani più orchestrali, una sinfonia di Cimarosa e un medley diciamo da temi di film che si intitola Go West. Grazie a tutti.